salve gente sono alex pios e oggi come potete vedere è un video speciale perché io mi sono fatto una lista mi sono fatto in realtà oggi avrei dovuto fare un video sul pc solo che il pc vabbè non voglio stare a spiegare tutte queste cose oggi ho voluto portare i clim perché era un po che non lo facevo quindi era un po che non lo facevo però non ho detto che non l'ho fatto fuori dei video qui difatti adesso se facciamo successivo se facciamo ok vabbè come potete vedere ho comprato un po di mappe e si qua sono arrivato a 1900 metri 1600 1400 1300 questo a 1900 metri sono arrivato questi cazzi ho portato massimo quello e adesso dovrei come potete notare il gippino praticamente finito con tre livelli di gomme quindi cominciamo subito però ciò allora io la caverna la salto a sto punto no vabbè potrei comprare la luna però aspetto prima voglio il veicolo giusto per la luna continuiamo l'autostrada bene io chiedo scusa se per un po non portato il crimp però vai con i lag ho avuto poco tempo per farlo ogni tanto mi mettevo lì a giocarci quando avevo un po di voglia ultimamente ci ho giocato un po di più giusto per portarmi un po più avanti rispetto al video perché se lo portavo avanti solo con i video quest'ora non sbloccava neanche le altre mappe quindi questo è un giochino che mi piace passa tempo diciamo ho fatto venire voglia anche a molti miei amici quindi tra l'altro anche a mio cugino ho fatto venire voglia di giocarci tra l'altro io nell'autostrada ero arrivato tipo a 1600 metri qualcuno me l'ha pure usato penso che sia stata mia cugina e mi ha portato a 1900 metri vabbè io cerco di migliorare tra 8 mila posso mettere il nuovo pezzo ma no costava 169 mila o 196 mila non me lo ricordo vabbè fa niente vai zio sali brava lo sapevo che mancavo il coso di benzina ma che cazzo non è che posso mancare il coso di benzina sì però dovresti salire zio ascolta devi salire brava no perché se manca il coso di benzina è un po tragica la cosa già sta mappa è lunga e così di benzina si trovano ogni morte di papa in qualsiasi caso il pezzo nuovo lo metterò sicuro sia che costa 169 mila sia che costa 196 mila di manco sempre cose di benzina ovviamente qua c'è il pezzo balordo vai gipino vai bravo bravissimo e ora bisogna fare una corsa contro il tempo più che altro contro la benzina perché mi bloccavo qua proprio perché finivo la benzina 200 mila sono arrivato wow non me lo aspettavo neanche io ascolta zio devi capire che la montagna la devi salire in realtà è un'autostrada però vabbè ok ok 100 metri guarda ma arrivo come l'altra volta che lo manco vuoi vedere eh sì lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo che lo mancavo vaffanculo cazzo cazzo lo sapevo vedi 196 mila ovvero va appunto vai con le gomme nuove dai vediamo se riusciamo a maxare sto gipino non mi ha appena fatto neanche 5 minuti di video quindi voglio riuscire a maxare sto gipino e arrivare a 2000 metri colpa di sta cazzo di benzina di merda che poi ti frega arrivi sempre nel momento sbagliato e finisce e poi partono le bestemmie perché non possono non partire le bestemmie magari sei tipo 5 mila metri anche perché una volta ero arrivato tipo quasi 10 mila metri sì ma non ho usato questo eh nei vecchi profili finché non ho saputo che si poteva salvare l'account su google adesso che ho salvato l'account su google questo non lo perdo se volete poi farò un video come spiegare come salvare l'account su google il clean racing io l'ho scoperto per caso proprio perché volevo scoprirlo come si faceva no perché perdere sempre i profili è una brutta cosa sai quando hai comprato tutto e poi perdi il profilo diciamo che ti passa un po' la voglia di sto gioco per una volta ho preso la benzina come si deve alla faccia del salto e questo è il bello della luna perché io potrei anche comprarmela già adesso la luna perché questo gp non salta abbastanza e farei un sacco di soldi la luna di fatto è una mappa a terra ci sopra a terra bisogna andare piano ora eccola lì la stronza ok sali 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 ma vedi che ti sposo allora finora li ho presi tutti bene cose di benzina vediamo se faccio anche col prossimo cose di benzina prenderlo bene tanto mi ci gioco che lo manco perché ormai lo conosco troppo bene sto gioco vabbè però posso anche prendermela con calma tanto è vicino e c'è ancora un sacco di benzina piano eccolo lì sì perfetto si può continuare vediamo se riesco a superare il record di mia cugina se lo strasupero appunto raga state vedendo un superamento di record in diretta però c'è un altro problemino allora vabbè adesso ho finito il livello benissimo ah ecco fra 60 metri c'è il coso di benzina vai sali zio bravo ok piano 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 ed il coso di benzina bravo minchia quante monete da 500 tutte le ho mancate che bello quando manchi le monete è proprio wow diciamo che ti piace come gioco diciamo non ti partono le bestemme no va va mica ti partono le bestemme livello 7 completato non me ne sono neanche accorto bene questa potrebbe essere una mappa che arrivo tipo a 3000 metri magari minchia era da non so quanto tempo che non arrivava una cifra così alta però c'è il problema benzina che scommetto che non manco no preso in pieno che culo di merda e raga lo sapete che posso mettere un nuovo pezzo sul gp non vero sempre se sale ok no perchè se mi mancavi il livello solo perchè non riuscivi a fare la salita era da prenderti a schiaffo il gp non lo sai vero mio dio mio dio mi sto superando me stesso 3000 metri è che ci arriva 3000 metri se non finisco la benzina prima molto probabile che la finisca ok ci sono pochi metri per la benzina è qua sotto la benzina ma tanto non la prendo no l'ho presa no ma dai ma come vabbè sono arrivato a 500.000 forse posso mettere tutte e due i due minchia 500.000 ho fatto vabbè mettiamo ok raga ci potete credere l'ho maxato ho maxato il gp ci sono riuscito ho maxato il gp non ci credo ho finito il gp proviamolo ora dobbiamo superare i 3148 metri tra l'altro ho superato pure i 3000 metri bene adesso prossimo veicolo che mi comprerò voglio voglio comprarmi il monster track perché almeno adesso se mi compro il monster track poi punto la luna devo puntare alla luna assolutamente poi appena punto la luna farò gli episodi sulla luna e lì sarà divertimento allo stato puro perché la luna la luna è la luna ti dico solo che per per far sì che sbloccassi tutte quelle macchine ho fatto la furbizia quella volta lì di comprarmi subito la luna e subito il monster track piano piano lo potenziavo grazie alla luna ogni gara che facevo mettevo un pezzo praticamente anche più di uno quindi capite quanti soldi che facevo perché essendo che nella luna non c'è gravità in quella mappa proprio non c'è gravità cioè c'è gravità poca però quindi i salti sono 50 volte più efficaci cioè nel senso stai di più in volo quindi fai tipo 17 18.000 ogni salto cioè proprio roba pazzi e manco la benzina te pareva che non mancassi la benzina guarda ormai non è una novità mancare la benzina però arrivare a 3148 metri proprio era da tempo che non arrivava una cifra così una volta lì era arrivato tipo non so se 5000 metri era arrivato 6000 non me lo ricordo è successo tanto tempo fa tipo 3 anni fa 2 anni fa quindi capite quanto tempo fa è successo adesso voglio sto testando ok benzina presa magari riesco ad arrivare anche a 4000 metri se GP non ce la fa bravo il bello è che ogni livello che sblocchi ti danno i soldi quindi è un porca troia per esempio avessi fatto un salto così nella luna non me ne avrebbero dati 5000 ma 25000 me ne avrebbero dati perché no 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 ascolta 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 non ti puoi accappottare ok non abbiamo neanche raggiunto minchia 100 metri per la benzina e l'ho finita questo è brutto del gioco niente finito la benzina però ho 98000 forse mi posso guarda dove era la benzina vaffanculo vabbè non importa vediamo se posso comprarmi Monster Truck in teoria no c'ho una soluzione adesso ve la faccio vedere praticamente se andate qua guarda il video vi danno 15000 lo fate guardate il video che cazzo state qualche secondo qua dopo che avete visto il video chiudete e vi danno 15000 e grazie 15000 mi compro Monster Truck poi puntano la luna perfetto poi chiudete bene Monster Truck comprato perfetto io spero che il video vi sia piaciuto inizierò la serie poi col Monster Truck piano piano lo potenziamo vorrei comprarmi il più presto possibile la luna così lo potenzio faccio già vedere i potenziamenti che ci saranno sono questi tra l'altro posso già potenziarlo tra l'altro magari aspetto prima no vabbè ok no ancora minchia c'è tre potenziamenti ho messo vabbè spero che il video vi sia piaciuto io finalmente ho comprato il Monster Truck dopo un secolo il GP fino qua al massimo ho finito il GP avevo il clean baccherato fino a tre quattro mesi fa cinque anche non so quanti anche di più e e non avevo così non avevo una macchina maxata da quel tempo lì cioè perché non porca troia vabbè lasciamo perdere spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale spero che vi ho fatto divertire oggi finalmente ho finito il GP e alla prossima belli